novena di natale la preghiera tradizionale le origini e come pregarla a cura di padre tiziano repetto la novena di natale è praticata con una recita di una serie di orazioni per nove giorni nei quali si possono fare richieste lodando dio le sue origini risalgono al 1720 secondo quanto viene tramandato anno nel quale venne eseguita per la prima volta in una casa di missionari vicenziani di torino nel periodo di natale tra i maggiori promotori di questa serie di orazioni ci fu gabriella marolles delle lanze marchesa di caluso a seguito della sua conversione nel periodo in cui frequentava la chiesa dell'immacolata ascoltò questa novena e ne restò particolarmente colpita in procinto di morte stabilì nel suo testamento che si recitasse a ogni natale questa serie di orazioni facendo in modo che venisse tramandata anche alle generazioni successive a oggi è fortemente praticata nel periodo natalizio da parte della comunità cristiana ecco come recitare passo per passo la novena di natale nei nove giorni che precedono il 25 dicembre primo giorno novena di natale si inizia col segno della croce invocando la santissima trinità nel nome del padre del figlio dello spirito santo amen si invoca lo spirito santo fonte di santità vieni santo spirito manda noi dal cielo un raggio della tua luce vieni padre dei poveri vieni datore dei doni vieni luce dei cuori consolatore perfetto ospite dolce dell'anima dolcissimo sollievo nella fatica riposo nella calura riparo nel pianto conforto o luce beatissima invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli senza la tua forza nulla è nell'uomo nulla senza colpa lava ciò che sordido bagna ciò che arido sana ciò che sanguina piega ciò che è rigido scalda ciò che è gelido drizza ciò che è sviato dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni dona virtù e premio dona morte santa dona gioia eterna amen di seguito si recita la preghiera del giorno o bambino gesù eccomi ai tuoi piedi mi rivolgo a te che sei tutto ho tanto bisogno del tuo aiuto donami o gesù uno sguardo di pietà e poiché sei onnipotente soccorrimi nella mia necessità recitare la preghiera del padre nostro la preghiera dell'ave maria e gloria al padre e poi di seguito la seguente preghiera per la tua divina infanzia o gesù concedimi la grazia che istantemente ti chiedo si esprime la grazia se conforme al tuo bene placito ed al mio vero bene non guardare la mia indennità ma la mia fede e alla tua misericordia infinita succede poi l'inno che ci accompagnerà per tutta la novena natalizia gesù dolce ricordo che dà le gioie del cuore ma più che il miele e tutte le cose è dolce la sua presenza niente si canta di più soave niente si ode di più lieto niente si pensa di più dolce di gesù figlio di dio gesù speranza per quelli che si pentono quanto pietoso sei per quelli che ti pregano quanto buono per quelli che ti cercano ma che cosa sei per quelli che ti trovano nella lingua bassa dirlo nello scritto ad esprimere chi ha provato può credere che cosa sia amare gesù sì gesù nostra gioia tu che sei il premio futuro la nostra gloria siente sempre per tutti i secoli amen in conclusione preghiamo dio che costituisti l'unigenito tuo figlio salvatore del genere umano e ordinasti che si chiamasse gesù concedi propizio che di colui il cui santo nome veneriamo in terra possiamo godere in cielo anche la vista per lo stesso cristo nostro signore amen secondo giorno novena di natale si inizia col segno della croce invocando la santissima trinità nel nome del padre del figlio dello spirito santo amen si invoca lo spirito santo fonte di santità vieni santo spirito manda noi dal cielo un raggio della tua luce vieni padre dei poveri vieni datore dei doni vieni luce dei cuori consolatore perfetto ospite dolce dell'anima dolcissimo sollievo nella fatica riposo nella calura riparo nel pianto conforto o luce beatissima invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli senza la tua forza nulla nell'uomo nulla senza colpa lava ciò che è sordido bagna ciò che arelo sana ciò che sanguina piega ciò che è rigido scalda ciò che è gerido drizza ciò che è sviato dona i tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni dona virtù e premio dona morte santa dona gioia eterna amen o splendore del padre celeste nel cui volto rifulge il raggio della divinità io ti adoro profondamente mentre ti confesso vero figlio di dio vivo ti offro o signore l'umile omaggio di tutto il mio essere dè che io non abbia mai a separarmi da te mio sommo bene recitare la preghiera del padre nostro la preghiera dell'ave maria e gloria al padre e poi di seguito la seguente preghiera per la tua divina infanzia o gesù concedimi la grazia che istantemente ti chiedo si esprime se è conforme al tuo bene placito ed al mio vero bene non guardare la mia indennità ma alla mia fede e dalla tua misericordia infinita succede poi l'inno che ci accompagnerà per tutta la novena natalizia gesù dolce ricordo che dà le gioie del cuore ma più che il miele tutte le cose e dolce la sua presenza niente si canta di più soave niente si ode di più lieto niente si pensa di più dolce di gesù figlio di dio gesù speranza per quelli che si pentono quanto pietoso sei per quelli che ti pregano quanto buono per quelli che ti cercano ma che cosa sei per quelli che ti trovano nella lingua basta dirlo nello scritto ad esprimere che ha provato può credere che cosa sia amare gesù si gesù nostra gioia tu che sei il premio futuro la nostra gloria sia in te sempre per tutti i secoli amen in conclusione preghiamo dio che costituisti l'unigenito tuo figlio salvatore del genere umano e ordinasti che si chiamasse gesù concedi propizio che di colui il cui santo nome veneriamo in terra possiamo godere in cielo anche la vista per lo stesso cristo nostro signore amen terzo giorno novena di natale si inizia col segno della croce invocando la santissima trinità nel nome del padre del figlio e dello spirito santo amen si invoca lo spirito santo fonte di santità vieni santo spirito manda noi dal cielo un raggio della tua luce vieni padre dei poveri vieni datore dei doni vieni luce dei cuori consolatore perfetto ospite dolce dell'anima dolcissimo sollevo nella fatica riposo nella calura riparo nel pianto conforto o luce beatissima invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli senza la tua forza nulla è nell'uomo nulla senza colpa lava ciò che è sordido bagna ciò che è arido sana ciò che è sanguina piega ciò che è rigido scalda ciò che è gerido drizza ciò che è sviato dona i tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni dona virtù e premio dona morte santa dona gioia eterna di seguito si recita la preghiera del giorno o santo bambino gesù nel contemplare il tuo volto da cui traspare il più dolce sorriso mi sento animato da viva fiducia si tutto spero dalla tua bontà irradia o gesù su di me e su quanti mi sono cari i tuoi sorrisi di grazia ed io esalterò la tua infinita misericordia recitare la preghiera del padre nostro la preghiera dell'ave maria e gloria al padre e poi di seguito la seguente preghiera per la tua divina infanzia o gesù concedimi la grazia che istantemente ti chiedo se esprime se conforme al tuo bene placito ed al mio vero bene non guardare la mia indedità ma la mia fede e dalla tua misericordia infinita se succede poi l'inno gesù dolce ricordo che dà le gioie del cuore ma più che il miele tutte le cose dolce la sua presenza niente si canta di più soave niente si ode di più lieto niente si pensa di più dolce di gesù figlio di dio gesù speranza per quelli che si pentono quanto pietoso sei per quelli che ti pregano quanto buono per quelli che ti cercano ma che cosa sei per quelli che ti trovano nella lingua basta dirlo nello scritto ad esprimere che ha provato può credere che cosa sia amare gesù si gesù nostra gioia tu che sei il premio futuro la nostra gloria sia in te sempre per tutti i secoli amen in conclusione preghiamo dio che costituisti l'unigenito tuo figlio salvatore del genere umano e ordinasti che si chiamasse gesù concedi propizio che di colui il cui santo nome veneriamo in terra possiamo godere in cielo anche la vista per lo stesso cristo nostro signore amen quarto giorno di novena di natale si inizia col segno della croce invocando la santissima trinità nel nome del padre del figlio e dello spirito santo amen si invoca lo spirito santo fonte di santità vieni santo spirito manda a noi dal cielo un raggio della tua luce vieni padre dei poveri vieni datore dei doni vieni luce dei cuori consolatore perfetto ospite dolce dell'anima dolcissimo sollievo nella fatica riposo nella calura riparo nel pianto conforto o luce beatissima invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli senza la tua forza nulla è nell'uomo nulla senza colpa lava ciò che è sordido bagna ciò che è arido sana ciò che è sanguina piega ciò che è rigido scalda ciò che è gerido drizza ciò che è sviato dona i tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni dona virtù e premio dona morte santa dona gioia eterna amen di seguito si recita la preghiera del giorno o bambino gesù la cui fronte è recinta di corona io ti riconosco per mio assoluto sovrano non voglio più servire al demonio alle mie passioni al peccato regna o gesù su questo povero cuore e rendilo tutto tuo per sempre recitare la preghiera del padre nostro la preghiera dell'ave maria e il gloria al padre e poi di seguito la seguente preghiera per la tua divina infanzia o gesù concedimi la grazia che istantemente ti chiedo si esprime sei conforme al tuo bene placito ed al mio vero bene non guardare la mia indegnità ma la mia fede alla tua misericordia infinita succede poi l'inno gesù dolce ricordo che dà le gioie del cuore ma più che il miele tutte le cose è dolce la sua presenza niente si canta di più soave niente si ode di più lieto niente si pensa di più dolce di gesù figlio di dio gesù speranza per quelli che si pentono quanto pietoso sei per quelli che ti pregano quanto buono per quelli che ti cercano ma che cosa sei per quelli che ti trovano nella lingua basta dirlo nello scritto ad esprimere chi ha provato può credere che cosa sia amare gesù si gesù nostra gioia tu che sei il premio futuro la nostra gloria sia in te sempre per tutti i secoli amen preghiamo dio che costituisti l'unigenito tuo figlio salvatore del genere umano e ordinasti che si chiamasse gesù concedi propizio che di colui il cui santo nome veneriamo in terra possiamo godere in cielo anche la vista per lo stesso cristo nostro signore amen quinto giorno novena di natale si inizia col segno della croce invocando la santissima trinità nel nome del padre del figlio e dello spirito santo amen si invoca lo spirito santo fonte di santità vieni santo spirito manda a noi dal cielo un raggio della tua luce vieni padre dei poveri vieni datore dei doni vieni luce dei cuori consolatore perfetto ospite dolce dell'anima dolcissimo sollievo nella fatica riposo nella calura riparo nel pianto conforto o luce beatissima invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli senza la tua forza nulla è nell'uomo nulla senza colpa lava ciò che è sordido bagna ciò che è arido sana ciò che è sanguina piega ciò che è rigido scalda ciò che è gerido drizza ciò che è sviato dona i tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni dona virtù e premio dona morte santa dona gioia eterna amen di seguito si recita la preghiera del giorno io ti contemplo o redentore dolcissimo rivestito d'un manto di porpora è la tua divisa regale come essa mi parla di sangue quel sangue che è sparso tutto per me fa o gesù bambino che io corrisponda a tanto tuo sacrificio e non ricusi quando m'offrirai qualche pena di soffrire con te e per te recitare la preghiera del padre nostro la preghiera dell'ave maria e gloria al padre e poi di seguito la seguente preghiera per la tua divina infanzia o gesù concedimi la grazia che istantemente ti chiedo si esprime sei conforme al tuo bene placito e dal mio vero bene non guardare alla mia indegnità ma alla mia fede e dalla tua misericordia infinita succede poi l'inno gesù dolce ricordo che dà le gioie del cuore ma più che il miele e tutte le cose è dolce la sua presenza niente si canta di più soave niente si ode di più lieto niente si pensa di più dolce di gesù figlio di dio gesù speranza per quelli che si pentono quanto pietoso sei per quelli che ti pregano quanto buono per quelli che ti cercano ma che cosa sei per quelli che ti trovano nella lingua basta dirlo nello scritto ad esprimere chi ha provato può credere che cosa sia amare gesù si gesù nostra gioia tu che sei il premio futuro la nostra gloria sia in te sempre per tutti i secoli amen in conclusione preghiamo dio che costituisti l'unigenito tuo figlio e salvatore del genere umano e ordinasti che si chiamasse gesù concedi propizio che di colui il cui santo nome veneriamo in terra possiamo godere in cielo anche la vista per lo stesso cristo nostro signore amen sesto giorno novena di natale si inizia col segno della croce invocando la santissima trinità nel nome del padre del figlio e dello spirito santo amen si invoca lo spirito santo fonte di santità vieni santo spirito manda noi dal cielo un raggio della tua luce vieni padre dei poveri vieni datore dei doni vieni luce dei cuori consolatore perfetto ospite dolce dell'anima dolcissimo sollievo nella fatica riposo nella calura riparo nel pianto conforto o luce beatissima invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli senza la tua forza nulla è nell'uomo nulla è senza colpa lava ciò che è sordido bagna ciò che è arido sana ciò che è sanguina piega ciò che è rigido scalda ciò che è gerido drizza ciò che è sviato dona i tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni dona virtù e premio dona morte santa dona gioia eterna amen di seguito si recita la preghiera del giorno o amabilissimo bambino nell'ammirarti sorreggere il mondo il mio cuore si riempie di gaudio fra gli innumerevoli esseri che sostieni vi sono anch'io tu mi vedi mi sorreggi ad ogni istante mi custodisci come cosa tua veglia o Gesù su quest'umile essere e sovvieni alle molte sue necessità recitare la preghiera del Padre Nostro la preghiera dell'Ave Maria e gloria al Padre poi di seguito la seguente preghiera per la tua divina infanzia o Gesù concedimi la grazia che istantemente ti chiedo si esprime sei conforme al tuo beneplacito e al mio vero bene non guardare alla mia indegnità ma alla mia fede e dalla tua misericordia infinita succede poi l'inno Gesù dolce ricordo che dà le gioie del cuore ma più che il miele tutte le cose è dolce la sua presenza niente si canta di più soave niente si ode di più lieto niente si pensa di più dolce di Gesù figlio di Dio Gesù speranza per quelli che si pentono quanto pietoso sei per quelli che ti pregano quanto buono per quelli che ti cercano ma che cosa sei per quelli che ti trovano nella lingua basta dirlo nello scritto ad esprimere che ha provato può credere che cosa sia amare Gesù si Gesù nostra gioia tu che sei il premio futuro la nostra gloria sia in te sempre per tutti i secoli amen in conclusione preghiamo Dio che costituisti l'unigenito tuo figlio salvatore del genere umano e ordinasti che si chiamasse Gesù concedi propizio che di colui il cui santo nome veneriamo in terra possiamo godere in cielo anche la vista per lo stesso Cristo nostro Signore amen settimo giorno novena di Natale si inizia col segno della croce invocando la Santissima Trinità nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo amen si invoca lo Spirito Santo fonte di santità vieni Santo Spirito manda a noi dal cielo un raggio della tua luce vieni Padre dei poveri vieni Datore dei doni vieni Luce dei cuori Consolatore perfetto ospite dolce dell'anima dolcissimo sollievo nella fatica riposo nella calura riparo nel pianto conforto o luce beatissima invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli senza la tua forza nulla è nell'uomo nulla senza colpa lava ciò che è sordido bagna ciò che è arido sana ciò che è sanguina piega ciò che è rigido scalda ciò che è gerido drizza ciò che è sviato dona i tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni dona virtù e premio dona morte santa dona gioia eterna Amen di seguito si recita la preghiera del giorno sul tuo petto bambino Gesù sfavilla una croce è il vessillo della nostra redenzione anch'io divin salvatore ho la mia croce che sebbene leggera troppo spesso mi opprime aiutami tu a sostenerla perché la porti sempre con frutto ben sai quanto sono debole e vile recitare la preghiera del Padre Nostro la preghiera dell'Ave Maria e gloria al Padre e poi la seguente preghiera per la tua divina infanzia o Gesù concedimi la grazia che in santemente ti chiedo si esprime sei conforme al tuo beneplacito al mio vero bene non guardare alla mia indegnità ma alla mia fede e alla tua misericordia infinita succede poi l'inno Gesù dolce ricordo che dà le gioie del cuore ma più che il miele tutte le cose è dolce la sua presenza niente si canta di più soave niente si ode di più lieto niente si pensa di più dolce di Gesù figlio di Dio Gesù speranza per quelli che si pentono quanto pietoso sei per quelli che ti pregano quanto buono per quelli che ti cercano ma che cosa sei per quelli che ti trovano nella lingua basta dirlo nello scritto ad esprimere chi ha provato può credere che cosa sia amare Gesù si Gesù nostra gioia tu che sei il premio futuro la nostra gloria sia sempre in te per tutti i secoli Amen in conclusione preghiamo Dio che costituisti l'unigenito tuo figlio salvatore del genere umano e ordinasti che si chiamasse Gesù concedi propizio che di colui il cui santo nome veneriamo in terra possiamo godere in cielo anche la vista per lo stesso Cristo nostro Signore Amen ottavo giorno novena di Natale si inizia col segno della croce invocando la Santissima Trinità nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo Amen si invoca lo Spirito Santo fonte di santità vieni Santo Spirito mandano dal cielo un raggio della tua luce vieni Padre dei poveri vieni Datore dei doni vieni Luce dei cuori Consolatore perfetto ospite dolce dell'anima dolcissimo sollevo nella fatica riposo nella calura riparo nel pianto conforto o luce beatissima invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli senza la tua forza nulla è nell'uomo nulla senza colpa lava ciò che è sordido bagna ciò che è arido sana ciò che è sanguina piega ciò che è rigido scalda ciò che è gelido drizza ciò che è sviato dona i tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni dona virtù e premio dona morte santa dona gioia eterna amen di seguito si recita la preghiera del giorno insieme con la croce sul tuo petto io scorgo o bambino Gesù un aureo cuore è l'immagine del cuore tuo veramente d'oro per infinita tenerezza tu sei l'amico vero che generosamente si prodiga anzi si immola per la persona amata riversa ancora su di me o Gesù l'ardore della tua carità insegnami a corrispondere una volta a tanto tuo amore recitare la preghiera del Padre Nostro la preghiera dell'Ave Maria e gloria al Padre e poi di seguito la seguente preghiera per la tua divina infanzia o Gesù concedimi la grazia che istantemente ti chiedo si esprime sei conforme al tuo bene placito ed al mio vero bene non guardare alla mia indennità ma alla mia fede e alla tua misericordia infinita succede poi l'inno Gesù dolce ricordo che dà le gioie del cuore ma più che il miele tutte le cose è dolce la sua presenza niente si canta di più soave niente si ode di più lieto niente si pensa di più dolce di Gesù figlio di Dio Gesù speranza per quelli che si pentono quanto pietoso sei per quelli che ti pregano quanto buono per quelli che ti cercano ma che cosa sei per quelli che ti trovano nella lingua basta dirlo nello scritto ad esprimere che ha provato può credere che cosa sia amare Gesù sì Gesù nostra gioia tu che sei il premio futuro la nostra gloria sia in te sempre per tutti i secoli Amen in conclusione preghiamo Dio che costituisti l'onigenito tuo figlio salvatore del genere umano e ordinasti che si chiamasse Gesù concedi propizio che di colui il cui santo nome veneriamo in terra possiamo godere in cielo anche la vista per lo stesso Cristo nostro Signore Amen nono giorno novena di Natale si inizia col segno della croce invocando la Santissima Trinità nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo Amen si invoca lo Spirito Santo fonte di santità vieni Santo Spirito manda noi dal cielo un raggio della tua luce vieni Padre dei poveri vieni Datore dei doni vieni Luce dei cuori Consolatore perfetto ospite dolce dell'anima dolcissimo sollevo nella fatica riposo nella calura riparo nel pianto conforto o luce beatissima invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli senza la tua forza nulla è nell'uomo nulla senza colpa lava ciò che è sordido bagna ciò che è arido sana ciò che è sanguina piega ciò che è rigido scalda ciò che è geido drizza ciò che è sviato dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni dona virtù e premio dona morte santa dona gioia eterna Amen di seguito si recita la preghiera del giorno la tua destra onnipotente o grande piccino quante benedizioni hai mai versato su quelli che ti onorano e ti invocano benedici anche me o bambino Gesù all'anima mia al mio corpo ai miei interessi benedici le mie necessità per soccorrerle ai miei desideri per compierli ascolta pietoso i miei voti ed io benedirò ogni giorno in nome tuo santo recitare la preghiera del padre nostro la preghiera dell'ave maria e gloria al padre e poi di seguito la seguente preghiera per la tua divina infanzia o Gesù concedimi la grazia che instantemente ti chiedo si esprime sei conforme al tuo bene placito e al mio vero bene non guardare alla mia indennità ma la mia fede alla tua misericordia infinita succede poi l'inno Gesù dolce ricordo che dà le gioie del cuore ma più che il miele e tutte le cose è dolce la sua presenza niente si canta di più soave niente si ode di più lieto niente si pensa di più dolce di Gesù figlio di Dio Gesù speranza per quelli che si pentono quanto pietoso sei per quelli che ti pregano quanto buono per quelli che ti cercano ma che cosa sei per quelli che ti trovano nella lingua basta dirlo nello scritto ad esprimere chi ha provato può credere che cosa sia amare Gesù sì Gesù nostra gioia tu che sei il premio futuro la nostra gloria sia in te sempre per tutti i secoli amen in conclusione preghiamo Dio che costituisti l'onigenito tuo figlio salvatore del genere umano e ordinasti che si chiamasse Gesù concedi propizio che di colui il cui santo nome veneriamo in terra possiamo godere in cielo anche la vista per lo stesso Cristo nostro Signore amen